Ciao, sono Roberto Fabri e sono qui con la piccola Giulia. Oggi vedremo la 58esima lezione del Suoniamo la chitarra. Questo brano si intitola Promessa ed è un brano tradizionale tedesco. Questo brano è in quattro movimenti, ossia in quattro quarti, però come il precedente inizia in levare, ossia inizia sull'ultimo quarto. Questo sempre per far modo che l'accento forte cada sulla nota Si e non sulla prima nota Re. Va bene? Anche questo brano inizia con il Re, ossia con la quarta corda, perciò dovremmo utilizzare il pollice per questa nota. Attenzione Giulia, perché anche qui, dato che il Re vale solamente un tempo, dovrai fermarlo, perciò la nota Re viene suonata e quando suoni la successiva ripoggi il pollice per fermarlo, perché sennò quel Re dura fino alla fine del pezzo. Va bene? Mi raccomando, seguite tutta la diteggiatura proposta della mano destra e anche della sinistra. Seguire sempre la diteggiatura sia della mano destra che della mano sinistra che trovate scritta sul pezzo. Un, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre... battuta, perché il Si ha un puntino, perciò il Si vale tre tempi, perché il Si è una nota da due tempi, è bianca, no? Con la zampettina, è una minima che vale due tempi. Con il puntino accanto ne vale tre, perciò Si, Sol, ok? Perciò attenzione, quel Si deve durare tre tempi, va bene? Riproviamo. Un, due, tre, quattro... battuta, un, due, tre, quattro... Bravissima! Ottima! Molto, molto bene! Adesso proviamo a farlo con la base, va bene? Molto bene, brava! Ti sei meritata un altro bel dieci. Bene, cari amici, abbiamo terminato la nostra cinquantottesima lezione. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella. Ciao! Ciao! Pronti?